L'ha visto anche lei, la linea degli dèi, la situazione perfetta, in una provetta, stilla, per un attimo una scintilla, un bagliore, a volte l'umore, dove può la sorte avanzare, anche la luce può ingannare, come poter andare, sembra rivisto d'aver visto cosa, qualcosa, che poi non c'era, in realtà non esisteva, questa sensazione si chiama l'illusione.